Lo stacco che avviene in questi stanzi è da... Nel filo NMG più veloce, poi leader di Poggio, all'algo olimpico, che è in corda orientata, next Gill, leader in prima presentarsi, poi orientata olimpico all'algo, ombra del vento, madri del venti, ma era all'algo da Clae Agulac, ancora al gruppo leader di Poggio, dopo 3.50 sul next Gill, NMG, 138, lancio il quarto da via in 29, pochi spiccioli, leader al comando, ma giudice in calcio olimpico all'algo, poi orientata, ombra del vento, ma era all'esterno, supporto a presso, raccola di lacrofi del gruppo, madri del venti. Il passaggio per i 600, in 44.7 sul nuovo amma troppo, leader di Poggio, che è incalzato, a metà della testa postale più buona da olimpico K, il quale si porta a presso Maier, mentre lunga la corda, è sempre il metà di Gilles e l'alion tab, il passaggio a metà gara in 59.8, un minuto scarico, via per leader di Poggio, olimpico in coppia, poi next Gill e Maier, l'alion tab, raccola di laccio, quindi ombra del vento, mentre sbaglia, madri del vento. Siamo a metà della curva conclusiva, con il leader olimpico alle prese, leader circa la difesa olimpico per Valente, nella scia di olimpico c'è Maier, con la piegata, ingresso alla rotta di arrivo, olimpico K che passa di forza, Maier che trova la giardina, maier all'attacco, Maier che prende il sopravvento sull'Olimpico, ok, c'è da dipendersi dal fondo di next Gill, c'è scelta di Maier, next Gill, l'alion tab sul palo, Maier...